Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Nuova Notizia. Anche da questa mattina nuova disposizione per le bancarelle del mercatino del Sacro Cuore ad Oristano, anche se in via Arborea gli ambulanti non sono poi così entusiasti come ci conferma Marianna Guarna. Alla fine eccoli anche in via Arborea. Chi fiducioso? Sembra che sia più spazioso. Adesso vediamo come la pensa la gente. Chi decisamente poco entusiasta? Gli ambulanti del mercatino del Sacro Cuore da questa mattina hanno preso possesso dei nuovi stalli. Frutto della riorganizzazione decisa dal Consiglio Comunale di Oristano che, eliminate le aiuole dal centro della sede stradale, ha disposto la sistemazione delle bancarelle su entrambe le carreggiate. In pochi però sembrano apprezzare. Un po' confuso, ma gira e rigira si sapeva che era un po' così, però speriamo che la gente si abitui e vada bene. Penso che sia tutti gli abitanti della zona, sia la maggior parte dei lavoratori abbiano chiaramente detto, con anche riunioni al comune, eccetera, che non erano contenti. Nonostante tutto questo spostamento pare sia dovuto avvenire. Non so fino a che punto sia una cosa giusta, perché non va bene agli abitanti, non va bene alla maggior parte di quelli che ci lavorano. Fatta qualche eccezione per i clienti storici, disposti ad una lunga passeggiata pur di acquistare i prodotti dal venditore di fiducia, sono soprattutto gli anziani a trovare scomoda la nuova disposizione. Non è molto agibile. Prima era solo su un lato e quindi si parcheggiava e si scendeva e avevano la macchina vicina. Adesso qui non lo possono più fare. Secondo me è molto caotico, perché avere questo insieme sparso di frutta e verdura, abbigliamento, poi di nuovo frutta e verdura, non aiuta negli anziani, che sono la maggior parte dei nostri clienti, che chiaramente devono trovare le arance qua e poi le mele, magari dall'amico dal quale le compravano sempre, completamente dall'altra parte, a più di due chilometri di distanza. C'è poi chi ne fa una questione di sicurezza. Un'emergenza. Da dove siamo? Siamo intrappolati. E fin quel parere degli ambulanti, ma sentiamo invece cosa ne pensano i clienti. Signora, le piace la nuova disposizione del mercatino? Sì, mi piace, sì, ma è troppo ammocchiata. S'era più sparsa un po'. Preferiva in via Aristana? No, in via Aristana è peggio, non si poteva passare in due. A me più mi piace qui. Non capisco che logica, che razionalità spostarlo da via, quella è l'anora Aristana, questa via è l'anora d'Arborea. Perché? Che logica, che poi spostano in continuazione. Stessa cosa mi piace la, la come si chiama, la padrona del coso qui. Quindi lei viene proprio a cercare questa frutta? Sì, sono venuta qui io da lei. È ben messo. Preferisce così? Sì, sì. Per me era molto lontano. È uno schifo adesso, è uno schifo prima era. Perché? Perché non hanno utilizzato quelle delle case minime, la piazza. La prima volta che venga adesso non ci si capisce niente. Deve andare a cercare e girare vagamente il cliente che tu cercavi prima. Speriamo che sia una questione di poco e che ritorni come era prima. Il fatto invece che frutta e verdura siano mischiate all'abbigliamento? In effetti sì, in effetti è vero. È un assembramento un po' strano, anche questo poco razionale, forse anche poco igienico. Avrebbero potuto lasciarlo come prima. La frutta deve essere frutta e il vestiario deve essere vestiario. Guido per cortesia vedi di rimettere tutto come era prima. Ciao! Domani a partire dalle 7.30 le squadre di Abano hanno in programma diversi interventi di manutenzione ed efficientamento lungo l'acquedotto di Oristano. I punti interessati sono i tratti nei pressi dell'autogrill sulla 131 in territorio di Sia Maggiore e nei pressi della provinciale 15 in territorio di Tramazza. Fino alla conclusione degli interventi sarà quindi necessario tenere fuori esercizio l'acquedotto. L'erogazione all'utenza sarà comunque garantita dalle scorte presenti nei serbatoi di Oristano, Tramazza, Sola Russa, Sia Maggiore e Bauladu, che saranno adeguatamente tenute al massimo della capienza per evitare o limitare eventuali disagi. L'idea dell'apertura serale non dispiace ai commercianti del Centro Storico di Oristano che ieri si sono riuniti per conoscere i risultati del questionario diffuso dalla ConfCommercio. Tra una settimana si prenderà una decisione definitiva. Nessun dubbio invece sulla manifestazione shopping sotto le stelle che sarà estesa anche a tutto il mese di agosto. L'ultima parola sarà pronunciata il prossimo 15 giugno, quando i commercianti del Centro Storico si riuniranno per fare il punto della situazione. L'orientamento però è ormai chiaro. Già in 70 hanno dato la disponibilità a sperimentare l'apertura delle proprie attività commerciali ogni giorno dalle 18 alle 22. La maggior parte dei commercianti che hanno risposto al nostro quesito si sono espressi favorevolmente in tal senso ma diciamo che è stata fatta una riflessione molto importante perché ci si rende conto che molti commercianti piccoli e ditte individuali senza personale dipendente hanno difficoltà in orari tipo 18-22 a conciliare la vita personale con la vita professionale per cui si è deciso di approfondire ulteriormente questa discussione e vedere se si riesce a trovare o delle soluzioni mediane oppure valutare se lasciare libertà di scelta come già la legge prevede e quindi se ci sono 50-70 commercianti in Centro Storico che vogliono provare a fare le aperture prolungate perché no. E se l'apertura quotidiana necessita di un ulteriore approfondimento sull'appuntamento fisso settimanale i commercianti non esitano. Shopping sotto le stelle animerà l'estate oristanese con una formula addirittura più ampia. L'idea per quest'anno è quella di allungare il numero delle giornate del progetto e quindi riuscire a coprire tutti i mesi sia di luglio che di agosto. Adesso stiamo cercando di avere il maggior numero di adesioni e quindi ovviamente è mio compito invitare tutti i commercianti a contribuire a questo evento quindi partecipate, il contributo che ho chiesto è di 150 euro ma per due mesi di promozioni sono in realtà una cifra molto modesta. Da oggi è ufficiale, i titolari dei bar di Oristano che hanno rinunciato alle slot machine nei propri locali non pagheranno le tasse comunali. Li abbiamo incontrati proprio all'uscita dell'ufficio tributi del comune di Oristano. Oggi diventa ufficiale lo sgravio delle tasse perché non avete messo le macchinette nei vostri locali. Sì, finalmente ci hanno consegnato questa con cui sgravano le 800 euro di tasse. Insomma, siamo contenti, ringraziamo di nuovo tutti quanti. Benvenga che si continui questo passo. Quali tasse non pagherete, lo ricordiamo? Sono 800 euro sgravate dalle tasse comunali cioè 800 euro il totale delle tasse che sono state sgraviate tolte dall'Immu, dall'Atari, sino al tot di 800 euro. Ricordiamo perché avete raggiunto questo traguardo? Abbiamo deciso di togliere le slot perché stanchi di tanto sperpero di denaro da parte di tante persone. abbiamo deciso così, da niente, ce l'hanno proposto, ci sta, va bene siamo contenti di questa scelta. Anche se magari possiamo dirlo, gli introiti forse sarebbero stati anche maggiori dello sgravio. Non è vero, ma sinceramente è meglio vivere senza questi soldi sporchi. In un ambiente più pulito. Avete visto la disperazione. Si, si, si. Sta meglio così. C'è di tutto brutte situazioni, si vedono, in cui è meglio evitare. Si crea un ambiente non idoneo, ho capito, per una famiglia, per fare una colazione, però insomma, non è un ambiente adatto. Fino al prossimo 29 luglio gli alunni residenti e non residenti frequentanti le scuole dell'infanzia e primari a tempo pieno di Oristano potranno presentare domanda per la mensa. Il servizio è offerto dal Comune con una contribuzione da parte dell'utente. I non residenti dovranno invece pagare l'intero importo previsto. Le domande da compilare sul modulo disponibile al centro Informa Città all'URP e sul sito istituzionale dovranno essere consegnate entro il 29 luglio 2016 al centro Informa Città di Piazza Eleonora. E sempre fino al prossimo 29 luglio si potranno presentare anche le domande per usufruire del trasporto scolastico per l'anno 2016-2017. Il servizio, anche in questo caso, è messo a disposizione dal Comune agli studenti residenti nelle frazioni o in zone extraurbane della città. I moduli da presentare entro la fine di luglio, come detto, sono disponibili presso il centro Informa Città. E ora la politica. Ad un anno dalle elezioni comunali di Oristano, il PD si ritrova per ricostruire il circolo cittadino. Prima riunione, ieri costellata da qualche malumore. Giù a testa bassa per ricostruire il circolo cittadino in vista elezioni 2017. Il PD chiama a raccolta tutti i livelli istituzionali del territorio, considerato che l'ultimo segretario, il giovane Riccardo Scintu, si è dimesso ormai da tre mesi e da allora tutto tace. Nella sede di Viacanepa ieri sera c'era il gruppo consigliare, gli assessori, i due consiglieri regionali Antonio Solinas e Mario Tendas e il deputato Caterina Pess. C'era anche il sindaco Guido Tendas ed è una notizia, visti difficili rapporti col partito da quando occupa la poltrona più importante del Comune. In particolare, proprio con la segretaria cittadina, capeggiata prima da Momoti Loka e poi dallo stesso Scintu, non c'è mai stato feeling. Ed è forse per questo motivo che anche ieri la riunione, nonostante gli appelli all'unità, ha lasciato la sensazione che il partito cammini su due binari paralleli, esattamente come le correnti esistenti al suo interno. Il tutto senza che neanche sia stata fatta nessuna ipotesi sul traghettatore che guiderà il circolo fino all'anno prossimo. Si cerca una figura che metta d'accordo tutti, ma se queste sono le basi non sarà facile. L'aggiornamento dei lavori è per la settimana prossima. Probabilmente saranno fatti i primi nomi. È necessario correre perché è necessario iniziare a lavorare sulle alleanze, sempre in attesa che il sindaco sciolga il nodo sulla sua eventuale ricandidatura. Il Comune di Oristano cerca i mobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e i soggetti interessati alla cessione dovranno partecipare ad un bando che scade il 30 giugno. Ulteriori dettagli dall'assessore alla programmazione Giuseppina Uda. Il Comune di Oristano sta cercando i mobili da acquistare per adibire a edilizia residenziale pubblica. Questo lo facciamo a seguito di un bando regionale con il quale ci è stato assegnato un milione di euro proprio da destinare all'acquisto di immobili di questo tipo. Noi chiediamo agli imprenditori che hanno degli immobili a disposizione, immobili che hanno certe caratteristiche, di partecipare a questo bando. Quello che stiamo cercando sono alloggi che vanno dai 45 ai 95 metri, devono essere nuovi e quindi devono essere conclusi entro il 31-12 del 2007, oppure ristrutturati, devono essere corpi minimi di 4 alloggi e niente, devono appunto avere determinate caratteristiche, devono ritenersi immobili, chiaramente nuovi o comunque in buone condizioni, non devono essere immobili di lusso e possono partecipare al bando facendo un'offerta economica. Dopodiché l'ente provvederà ad acquistarli, le risorse ci sono, quindi potrà acquistarli e pagarli in tempi brevissimi. Ci sono anche stabiliti dei tempi di consegna che vanno dai 4 mesi, 6 mesi agli 8 mesi, a seconda appunto delle condizioni e delle necessità di ristrutturazione di questi immobili. Quindi la possibilità che viene data alle imprese di partecipare varia, a seconda delle caratteristiche appunto degli immobili. A poco più di 24 ore dal risultato elettorale è nata ufficialmente la nuova giunta del comune di Solarussa guidata dal neo sindaco Mario Tendas. Rita Casu sarà vice sindaco con delega ai servizi sociali, Andrea Piccu fa sapere il primo cittadino, il cittadino sarà assessore al decoro urbano, Alberto Carboni assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, infine Eric Madaula delega alla cultura e pubblica istruzione. Capogruppo in consiglio sarà la consigliera Manuela Ovinu. La nuova giunta, comunica il sindaco Mario Tendas, sarà presentata nel primo insediamento del Consiglio Comunale, già formalmente convocato per lunedì 13 giugno. Era questa l'ultima notizia del telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS